ciao bambini benvenuti nel nostro video con san francesco d'assisi che torna nel mondo contemporaneo questa volta ha incontrato una moto che sta facendo molto gas perché vuole andare veloce e san francesco non si spiega perché tutti abbiano così tanta fretta sorella madre terra molto malata si confida con san francesco d'assisi e gli chiede aiuto dice che il 44 per cento delle emissioni inquinanti vengono dalle industrie e dalle automobili e arrecano gravi danni alla salute delle persone questi gas inquinanti stanno anche aumentando la temperatura del pianeta con ulteriori gravi danni per cui è importante arrivare ad una svolta cambiando le abitudini quotidiane ad esempio cominciando ad usare di più la bicicletta